Un'altra avanguardia è quella crepuscolare. I crepuscolari esordiscono ancora prima, le prime prove sono di Govoni e di Palazzeschi intorno al 1903 e raggiungono i risultati più maturi con Gozzano e Corazzini. È interessante perché la loro novità consiste anzitutto nella distruzione del mito del poeta Vate, cioè il loro obiettivo polemico è d'annunzio poi, ma anche Carducci dietro. Alle pose di grandezza del poeta Vate i crepuscolari sostituiscono invece la predilezione per l'ombra, per il crepuscolo, per le piccole cose, per gli atteggiamenti dimessi, addirittura per una sorta di squallore piccolo-borghese. Usano poi il verso libero, che è una novità introdotta precedentemente da Lucini e da D'Annunzio, ma praticata soprattutto su vasta scala dai crepuscolari. L'atteggiamento, diciamo così, contrario alla figura del poeta Vate si riflette poi in una teoria che Gozzano esprime come vergogna della poesia. Invece dell'orgoglio di essere poeta, questi scrittori si vergognano di essere poeti o dicono come Corazzini, so che per essere detto poeta occorrebbe vivere un'altra vita. La vita che i poeti possono vivere all'inizio del secolo è così misera che non ardiscono nemmeno a definirsi come tale. Buonasera, contessa. Buonasera, carissimo Aldo. Oggi giornata bella, contessa. Troppo bella, carissimo Aldo. Non fa né freddo né caldo. E la noia, contessa. La chi? La noia. Pa 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 pa. Sempre la stessa. Ciò mi dite di nuovo? Bravo. Cosa dirvi di nuovo? Mi credete così ingenuo, nemmeno mi ci provo. Bravo. E passate per giovine bizzarro, per uomo tanto strano. Strano bizzarro, bizzarro strano. Bravo. Cod'esta bella veste, contessa, la vidi proprio iersera, precisa, a una borghese. E fu inventata a Parigi, che non è ancora un mese, sempre così si sa. A Parigi fumano l'oppio. A Parigi. Verrà presto la moda anche da noi. Certo verrà. Poi le belle cose da noi sono un mito. Noi siamo quelli di ieri o di poi.